oggi ho pensato che fosse il caso di ricominciare a ordinare gli abiti sebbene sia ancora molto caldo infatti ho dovuto legare i capelli perché qui in casa sembra ancora estate ho trovato in un cassetto dei pantaloni bianchi che mi regalò un'amica non li ho mai provati poi non mi sembrava tanto il mio stile ma ugualmente ora voglio vedere come mi stanno che mi sembravano un po larghi i pantaloni sono questi sono carini così a colonna vita alta pensavo di metterli da parte poi invece ho cambiato immediatamente idea e ora mi è venuta la curiosità di vedere come mi stanno li provo con mio grande stupore mi stanno anche abbastanza bene non credevo sono così a vita alta con le tascone sono rimasta meravigliata perché mi piacciono anche ecco sono così forti davvero di questo modello non ne avevo mai visto mai avuti mai 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 poi le ho messe con queste scarpe qui poi con questa canottierina di cotone bianco forti 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 Grazie. Trovo anche che siano comodi, un tessuto fresco, sì sì, va bene allora ho deciso che li tengo, no col fatto che ero indecisa se tenerli o meno o metterli da parte, credo proprio che li terrò, perché sono freschini, comodi, certo che se avessi dovuto comprarli io non li avrei mai presi dei pantaloni così, però adesso ho deciso che mi piacciono, sì, mi piacciono.